e qui sto a fare il video sto a fare il video è impossibile devi venire qua immediatamente muoviti qui e qua dai no devi venire a vedere un po' forza ma che è? guarda qua non si fa niente mi punti la pistola a zero che dove fai da sparare? e manca muore va finì dai ah oggi credo non ci credo voglio uscire non ci credo allontanati guardate ne vai allontanati muore highlander pure non se ne va non posso uscire rimasto bloccato qua dentro che devo fare da uscire dal gioco? non ci credo dai va dobbiamo uscire al gioco che devo fare? un po' forza non è endigone ok quali qui gelo Grazie a tutti.